Io ne ho viste cose che voi umani non potreste immaginarvi. Navi da combattimento in fiamme all'argo dei bastioni di Orione. E ho visto i raggi B balenare nel buio vicino alle porte di Tannhoiser. Tutti quei momenti andranno perduti nel tempo, come lacrime nella pioggia. È tempo di morire.